Ciao a tutti ragazzi, oggi come potete vedere parliamo di ramponi. Nel particolare vedremo le varie caratteristiche, le differenze, quale tipo di rampone va bene per quale tipo di scarpone e alla fine naturalmente qualche mio consiglio personale per scegliere al meglio il tipo di rampone. E adesso iniziamo subito col video. Innanzitutto, prima di iniziare a guardare le caratteristiche di ogni singolo rampone, diciamo anche cosa hanno in comune tutti i ramponi. Ovvero che i ramponi sono unisex, nel senso che non esiste un rampone per uomo o un rampone per donna, lo stesso rampone può andar bene per ambo i sessi e soprattutto non esistono le taglie, nel senso che un rampone ha un sistema brevettato dalla casa produttrice che ci permette di utilizzarlo tendenzialmente da un 36 a un 48. L'unica cosa, fate attenzione che questi numeri possono variare, vi consiglio di andare a leggere sul sito della casa produttrice del rampone che volete andare a comprare il range di numeri in cui è utilizzabile. Adesso che abbiamo visto cosa hanno in comune, iniziamo invece con le differenze. La prima è il materiale con cui sono fatti i ramponi. Per la precisione abbiamo dei ramponi che possono essere fatti in alluminio con le varie leghe e in acciaio con le varie leghe. Cosa cambia? I ramponi in alluminio tendenzialmente sono più leggeri e meno costosi, però di contro hanno che si possono facilmente stortare, si possono rompere le punte, è molto più difficile anche andare a limare le punte per, diciamo, riportarle a vita. È un rampone tendenzialmente che può andar bene per una semplice camminata su neve, ghiaccio, ma proprio ghiaccio molto fresco, ghiaccio per il quale non è difficile penetrarlo. Tendenzialmente hanno un uso veramente molto semplice e anche molto limitato. Per quanto riguarda invece i ramponi in acciaio, di contro sono più pesanti, naturalmente per il tipo di materiale, e anche più costosi. Però hanno dalla loro che praticamente possiamo usarli ovunque. I ramponi in acciaio, in base ai vari modelli, possiamo usarli dalla semplice camminata su neve e su ghiaccio, ha dell'alpinismo tecnico, ha delle cascate di ghiaccio. Quindi diciamo che il mio consiglio personale è di andare diretti su un paio di ramponi in acciaio, perché davvero vi possono permettere di fare un sacco di cose. La seconda grossa differenza è il numero di punte che abbiamo in un rampone, perché qui esistono ramponi con 10, 12 o 14 punte. I ramponi a 10 punte tendenzialmente sono ramponi pensati per fare qualcosa di molto semplice. Anche qua, camminata su ghiacciaio, molto semplice, nulla di tecnico, nulla anche in cresta. I ramponi a 12 punte invece sono pensati per fare un po' di tutto. Ci possiamo fare dall'alpinismo semplice all'alpinismo tecnico, fino anche a delle creste, delle scalate su ghiaccio, su roccia, di misto, eccetera. Quelli a 14 punte invece sono particolarmente pensati per fare cascate di ghiaccio e anche scalata su roccia. Questi qua sono nati da poco sul mercato e sono, diciamo, la conseguenza di quello che sta succedendo del cambiamento climatico, ovvero che si trovano sempre meno cascate di ghiaccio, ma magari più del misto tra ghiaccio e roccia. Visto che parlavamo di punte, esistono delle differenze anche nelle punte. Abbiamo le punte orizzontali e verticali. Le punte orizzontali sono pensate per fare praticamente quella che è una classica camminata su ghiacciaio, per fare anche qualcosa di tecnico, ma non troppo verticale. Diciamo che vanno bene un po' per tutto, escluso quello che è il mondo di cascate di ghiaccio. Le punte invece verticali sono appunto pensate per le cascate di ghiaccio. Non hanno una gran aderenza su quella che è invece il ghiaccio quando andiamo a camminarci o sulla neve. Sono pensate per fare qualcosa di verticale, proprio cascata di ghiaccio, arrampicata su roccia, eccetera. Esistono anche dei ramponi che hanno una via di mezzo tra queste due punte, ovvero che iniziano con la parte orizzontale per finire verticale. Quelli sono proprio dei ramponi, potremmo dire, tuttofare, col quale possiamo fare da del semplice camminata su ghiaccio anche a delle cascate di ghiaccio. Un'altra grossa differenza tra ramponi è la loro rigidità, perché possiamo trovare dei ramponi, diciamo, semi rigidi e dei ramponi completamente rigidi. Questi sono da scegliere in base al tipo di scarpone che abbiamo. Se abbiamo uno scarpone semi rigido o rigido. Come facciamo a capire se abbiamo uno scarpone semi rigido o rigido? Andando a piegare la punta, se riusciamo a piegarla un pochino con un po' di pressione, vuol dire che avremo uno scarpone semi rigido. Se mettendoci tutta la pressione che riusciamo non riusciamo a piegarlo, vuol dire che avremo uno scarpone rigido. Idem con i ramponi. Se riusciamo a piegarli un po' saranno semi rigidi, se non riusciamo a piegarli saranno rigidi. Su uno scarpone rigido possiamo mettere sia un rampone rigido, che rigido con rigido vanno bene d'accordo, sia un rampone semi rigido, perché la rigidità gliela darà lo scarpone. Su uno scarpone semi rigido invece vi sconsiglio fortemente di mettere un rampone rigido. Questo perché il rampone non andrà da secondare quello che è invece la flessibilità dello scarpone. Quindi a lunga potrebbe essere che il rampone possa anche saltare via e darci fastidio. Su uno scarpone semi rigido si va a mettere un rampone semi rigido, dunque che segue la flessibilità del nostro scarpone. Arriviamo dunque a capire quale rampone comprare in base al nostro scarpone. Qui c'è da fare innanzitutto una premessa. Esistono diversi tipi di scarponi. Gli scarponi flessibili non possono essere ramponati. Per capire se uno scarpone è flessibile, se riuscite a piegarlo tantissimo, tanto che la punta dello scarpone tocca la linguetta del collare, vuol dire che è uno scarpone flessibile e non potete per nessun motivo ramponarlo. Se invece il vostro scarpone è semi rigido, allora può essere ramponato. Il primo tipo di rampone che vediamo è quello universale, ovvero quel rampone che potrebbe andare bene sul 90% di scarponi a patto che sia semi rigido. Infatti questo rampone ha una gabbietta anteriore e una posteriore. Infatti vuol dire che non c'è bisogno che ci sia la tacca semi ramponabile che poi vedremo successivamente negli altri ramponi. Qui possiamo metterci sopra, come vi dicevo, uno scarpone universale semi rigido e questi scarponi sono adatti per fare delle vie molto classiche, molto semplici. Per intenderci una camminata su ghiaccio, come può essere una camminata per arrivare alla capanna margherita. Assolutamente nulla di tecnico, perché quando si inizia ad andare sul tecnico la fibia potrebbe un pochino aprirsi e far salta fuori lo scarpone, ma anche perché soprattutto non ci darebbe la rigidità adatta per fare qualcosa di tecnico. La seconda categoria sono i ramponi semi automatici. Questi sono da montare su uno scarpone che nella parte posteriore ha la tacca semi automatica, nella parte anteriore invece non ha nulla. Una cosa particolare che troviamo su questo tipo di rampone è che all'interno della parte posteriore dove andiamo ad attaccare il rampone sullo scarpone c'è anche normalmente una rotellina che ci permette una regolazione millimetrica del nostro rampone. Questi ramponi sono l'ideale per un po' tutto. Possiamo farci dalla camminata semplice a qualcosa di tecnico, anche a qualcosa che può essere poi magari dell'alpinismo con un pochino d'arrampicata. Diciamo solo un pochino tutto fare, fino però ad arrivare comunque a qualcosa di camminato, non troppo verticale. Esistono poi dei tipi di ramponi semi automatici che hanno la possibilità di cambiare la gabbia anteriore. Così facendo praticamente noi spendendo tendenzialmente un 20-30 euro in più, magari rispetto ad un rampone che non ha questa possibilità, possiamo renderli anche automatici cambiando la gabbietta anteriore. E adesso vediamo anche quelli automatici. I ramponi automatici invece sono l'ideale per uno scarpone che ha l'attacco sia nella parte posteriore sia nella parte anteriore. Nel 99% dei casi vengono venduti anche con le punte verticali. Questo perché questo tipo di rampone è pensato per fare una scalata su ghiaccio, su cascate di ghiaccio, una scalata di misto magari con un po' di dry touring, un po' di roccia, eccetera. Questo tipo di rampone poi si divide anche in due tipi di categorie, ovvero quelli a monopunta e bipunta. Piccola parentesi, il 99% dei ramponi fatti così possono andare anche a sostituire la punta. Per intenderci, con un semplice meccanismo, si possono comprare dei ramponi a doppia punta e farli diventare a singola punta. tendenzialmente vi consiglio di comprare quelli rispetto a dei singola punta che nascono proprio solo con una punta e basta perché con una spesa potrete farci di più. La singola punta viene utilizzata in quei casi in cui abbiamo un ghiaccio molto duro perché si riesce a fare più pressione sulla punta e a perforare meglio il ghiaccio e anche in quei casi in cui invece ha bisogno di molta precisione perché con una punta si avrà più precisione che con due. I ramponi invece a doppia punta vengono utilizzati su del ghiaccio magari un pochino più morbido dove abbiamo bisogno di maggior sostegno e soprattutto anche in quelle vie un pochino più lunghe. Tendenzialmente possiamo dire magari che una singola punta viene utilizzata anche su quella che può essere un'arrampicata su roccia mentre un doppia punta più su quella che ha l'arrampicata classica su ghiaccio. Arriviamo dunque a quelli che sono i miei consigli personali per aiutarvi a scegliere il miglior rampone per il tipo di alpinismo che volete fare. Partiamo da un presupposto ovvero io vi consiglio i ramponi a 12 punte e in acciaio 10 punte e alluminio sinceramente vi consiglio di scartarli. Se siete un alpinista alle prime armi che magari deve comprare il suo primo rampone avete due possibilità o andare su un rampone universale se magari avete già uno scarpone da trekking estivo che è semirigido quindi magari con un rampone universale potete già utilizzarlo oppure se invece avete un scarpone da trekking con l'attacca posteriore potete andare anche su uno semi-automatico. Il mio consiglio se andate su uno universale magari di spendere qualcosina in più e di prendere uno che abbia la possibilità di cambiare la gabbietta posteriore in modo tale che se un domani vi ha comprate uno scarpone un pochino più rigido magari con l'attacco semi-automatico potete semplicemente comprare la parte posteriore della gabbietta e sostituirla questo nel caso in cui siete degli alpinisti alle prime armi nel caso in cui siete degli alpinisti che fanno un po' di tutto diciamo intermedi dalla semplice camminata anche a qualcosa di tecnico beh qui il mio consiglio è quello di andare su un rampone semi-automatico magari con la possibilità successivamente anche di cambiare la parte anteriore e farlo diventare automatico quindi sta un pochino a voi poi se andate a fare qualcosa di molto classico se vi piace fare alpinismo classico e qualcosa di tecnico potete andare su delle punte orizzontali senza alcun problema se invece in futuro vorrete sperimentare anche a fare qualche cascata di ghiaccio vi consiglio di prendere dei ramponi sempre semi-automatici però quelli ibridi che hanno magari la fine della punta verticale in modo tale che se domani volete iniziare a fare cascate di ghiaccio cambiando la parte anteriore della gabbietta e avendo dei punti un po' verticali potrete iniziare a farlo se invece siete degli alpinisti esperti che vanno a fare delle vie super tecniche e tanta cascata di ghiaccio beh lì andate su dei ramponi naturalmente automatici io vi consiglio di prenderli a doppia punta con la possibilità di cambiare e metterli a singola punta e in questo caso andare veramente su quello che possono essere anche i top di gamma con i migliori materiali perché sul verticale non si scherza detto ciò ragazzi io nella speranza sia stato esaurente e esaustivo anche per questa guida all'acquisto e nella speranza di avervi aiutato a scegliere il vostro prossimo rampone vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo ciao ciao